È stata una sensazione particolare e bellissima perché ho avuto degli applausi che magari nemmeno nei tempi quando stavi a Napoli ho avuto e questo sicuramente può soltanto far piacere. La squadra come l'hai vista? La squadra l'ho vista, noi siamo stati messi bene in campo soprattutto tatticamente e quello che ci è mancato in fase offensiva non siamo riusciti a concludere bene e questo sicuramente parla per il Napoli che innanzitutto è in difesa, ha reggito molto bene e non ci ha lasciato arrivare fino in fondo e il risultato è giusto direi. Con Sergio Flocca li parli di Napoli? Sergio Flocca li parli, se mi chiedono sicuramente poi basta che i compagni miei vedano come sono stato benvenuto in queste giornate di oggi e una riaccomandazione migliore di questo sicuramente non esiste. Parlando del tuo futuro? Non posso parlare del mio futuro perché non so dire nulla quindi ci ho 7 partiti a giocare ancora che finisce il campionato e poi se ne parlerà.